A tutti si parla degli episodi, è un modo di dire così, vuol dire, perché poi ci sono 25 goli, ho detto in questa maniera, ma mi ci fai l'articolo con il titolo, scegli quello, poi oggi mi ci ribadisci. Io sono fortunatissimo, io non posso essere sfigato, professionalmente ho raggiunto quel livello lì, tu capisci quello che voglio dire? Che ti piacciono o no, i miei risultati sono quelli ormai, il tuo risultato è questo, spero che la fortuna ti possa dare qualcosa, nel senso che la sfortuna non ti possa togliere niente, io sono a posto insomma, ecco. A me la sfortuna non mi può togliere niente, tu sei a fare le psicoanalisi a me tutti i giorni, è un lavoro da sfigato fare le psicoanalisi a me tutti i giorni. Te lo dico io. Non faccio psicoanalisi. No, no, è tutti i giorni, vedo come oggi, ragazzi vi vedo un tantino in difficoltà. Io oggi non ho scritto particolare. Sì, vi vedo un tantino in difficoltà. Tant'è che oggi avete chiesto anche l'aiuto all'artiglieria pesante, avete chiesto l'aiuto all'artiglieria pesante, avete mandato agenti sotto falso nome a vedere poi che l'una ho oggi, in incognito, che l'una ho oggi, che l'una ho ieri. Tanto andavi lì. A volte invece gli articoli sportivi mi sembrano oroscopi. Oggi non ce l'ho fatta, non ho fatto un tempo, ma durante la settimana mi metto un pari, li rileggo tutti. Però io sono una persona fortunatissima, io non posso avere sfortuna più ormai. Io spero che tu possa avere fortuna te. Punto. 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 Punto.